Dolore e fede sono gli elementi distintivi che caratterizzano le giornate della passione del Signore. Giornate dedicate al silenzio e alla devozione. In attesa della festa della resurrezione, sono i tratti essenziali che nella settimana Santa Ragusa Ibla hanno contraddistinto le processioni delle 40 ore di adorazione del Santo Sacramento e che domani, in occasione del Venerdì Santo, rappresenteranno il punto di riferimento per centinaia di fedeli che come sempre seguiranno da vicino il maestoso incedere dei simulacri del Cristo morto e dell'addolorata. Prima però alle 17, al Duomo e a San Tommaso, si svolgeranno le funzioni celebrative inerenti alla passione del Signore. A partire dalle 20, dalla Chiesa Madre di San Giorgio, il momento più atteso, la solenne processione, altro rito di antichissima tradizione che viene perpetuato da secoli. I due simulacri raggiungeranno la piazza antistante del Duomo. Il gran numero di fedeli, notevole crescita rispetto agli scorsi anni, presenti ai riti della settimana Santa Ibla che hanno preso il via domenica scorsa, è destinato a rendere ancora più significativo questo momento che nel quartiere barocco viene celebrato secondo antiche consuetudini e che fa rivivere il dolore della Madonna legato alla crocifissione e alla morte di Gesù Cristo. In occasione del Sabato Santo, inoltre alle 18, nella Chiesa Madre di San Giorgio, è fissata la celebrazione mariana dell'ora della madre, mentre alle 22, al Duomo di San Giorgio e alla Chiesa di San Tommaso, si terrà la veglia pasquale e la Santa Messa. Per la domenica di Pasqua, alle 11, Santa Messa al Duomo, alle 12, funzioni religiose a San Tommaso e al Duomo, alle 18, Messa a San Tommaso e alle 19, la Santa Solenne Messa a San Giorgio.